Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, no, no. Non è detto, non è detto di vedere domani però. Eh, però io mi hanno appena costato 50 bits e conta 35, esattamente il 30% del meno. Mi spieghi come cazzo lo fai a vedere, che vorrei vedere anch'io solo per curiosità, scusami. Eh, perché... Non fisicamente, non fisicamente. C'è lo che vuoi fare tramite Twitch? Sì, sì, è quello tramite Twitch, certo. E devo campurare un modulo? Devi rifare tutto il questionario fiscale, certo, perché hanno fatto un aggiornamento, perché il primo gennaio del... Non ho compilato nessun moido quando fu all'epoca, scusi, che vuol dire? Si ricorda che lei mi chiese... Eh, se non hai compilato nessun modulo all'epoca, hai sempre... No, no, è modulo di Twitch, sì. Ma hai dichiarato che non sei un... Sì, ovvio, perché mi ricordo che quando lei aveva questo problema mi aveva chiesto questa cosa, io avevo 0%. Eh, bravi, allora tu hai ricoperto. Però dal primo gennaio 2023 sono cambiate delle cose e quindi... Perché mi ha cambiato per dicembre però, cioè, non ho capito. Cioè... Eh, quello non lo so. Eh, lì mi fa una domanda che io non ti so rispondere. Cioè, io, bu, vabbè. E non è tramite Twitch che si fa questa cosa, non è tramite... Assolutamente. Sì, sì, certo. Devi ricompilare il questione fiscale di Twitch, che semplicemente ti richiederà i tuoi dati aziendali, della tua partita IVA, la tua cosa, e ridici che sei cittadino italiano e non degli Stati Uniti. Sì, 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 sì. Punto esclamativo band, ragazzi. Fatemi vedere un po' di supporto. Fatemi vedere un po' di... Il nostro nuovo video musicale. Dai, grazie CR20, grazie. Salutiamo, salutiamo i nuovi, salutiamo i nuovi. Salutiamo i nuovi, ancora pronte. Un sacco di win da portare già a casa. Salutiamo intanto Bernard. Che PC consiglio? Io non consiglio PC, ragazzi. Io consiglio persone che sanno quali PC consigliarvi. E il mio consiglio è quello di andare da U Gaming. Cercate su Google, cercate U Gaming. Siamo nel 2023. Mandategli una mail e dite che vi mando io. Dimmi, dice, aggiungo altre patatine a sorpresa. Oh, c'ho gusto. Oh, c'ho gusto. E allora andiamo, cazzo. E allora andiamo, cazzo. Andiamo via il nervoso, raga. Fatemi un po' di punto esclamativo, band, dai. Dai, vado a ringraziare un po' di ragazzi che si iscrivono adesso alla pagina, perché altrimenti bestemmio. Salutiamo subito il signor Fra Boss. Buongiorno, Fra Boss. Buongiorno, buongiorno. Ho i perk che voleve. Il mago dice, 1.500 salamici con queste due armi. Oh, porca trota. Ok. Ma porca puttana. Figa, i grandi vecchi amici. Oh, nice. Eh, bravo. Che cazzo ti devo dire? Eh, bravo. Eh, bravo. Vai a fanculo, porco diaz. Io non so quando cazzo fa, come faccio a non bestemmiare. Non so come faccio a non bestemmiare. Minchia godo se muori. Dio caro godo, mi scopo tua madre. Io refoundo per il bug, ovviamente. Ho un pago proprio un bel cazzo di niente. Non so avete notato questa ricrescita barbisa. Perché non si fa una vita questa? Perché gli inculano talmente tanto la madre con quattro cazze al volo che per evitare di piangere deve per forza pensare che il suo ego possa migliorare su Fortnite e la sua vita possa essere un pochettino più riconducibile a una vita normale. In realtà è fottutamente un aborto che doveva essere ingoiato invece che camminare. Coglione di merda, spero che ti caghi addosso e ti esploda in faccia a qualcosa. In cammino spero che ti esploda la madre, porco diaz. Proprio deve esplodere da dentro e deve squartarsi sta puttana di merda. Porco diaz, porco diaz, fai cagare, zio. Fai cagare, Dio caro, fai cagare. Porco diaz, fai cagare, figa. Oh, io spero ti scoppia il buco del culo, porco diaz. Mio Dio, mio Dio, che tu possa cagare merda ogni fottuta volta che vai a mangiare a spruzzo. Dio caro, fai cagare, zio, fai cagare. Comunque. Cominciamo a preparare. Ciucciami il beghello! L'ho preso gli auricolari, li ho presi da NTS Audio a Milano, l'unico che li fa in Lombardia, quello che li fa per Marquesh, Spera e Basta, Salmo, Gemita, Itz, li ha fatti fare un botto di persone. Dai, cazzo. Fatemi vedere un po', fatemi vedere un po' come vi chiamate. Il signor Colli di ZN, il signor... Mi deve giocare il cazzo! Nice! Sti malati di merda, entrambi con l'RPG. Certo, ciao, tasca. Entrambi con l'RPG! Sì. Che merda. Nice! Sì, non mi che lo penso di merda! Non mi che lo penso di merda! Tipo, quei 20 euro ti arrivano. Esatto. Eh, lo so, ragazzi. Hai mai preso due a scuola? Minchia, ero felice quando prendevo due. Andiamo. Che miseria. Io prendevo gli zeri. Adesso dai! 300 patetine. Mi scrivi, signorina Daniela. Stavo spulciando. Noto... Le fa. Molto interessante. Fotografi con la dodge. Molto bello. È un po' pazzo, è un po' pazzo, mi sa! 200 patetine di Diagimago. Non fa già! Dai che andiamo! 10 kill win, 500 patetine da Cooper. Signor Cooper, let's go! Io ogni volta che c'è una signorina che segue la pagina, guardo sempre se può essere una signorina adatta al prossimo videoclip. Quello che sarà fatto in primavera di Socialmente. La ringrazio, sono molto felice. Che le faccio compagnia? Molto bene. Andiamo. Grazie di cuore. Cazzo, ma che cazzo fai? Te hai nella vita, porco diaz! Mangi i fichi d'India col culo, Cristo! Però l'essere propone, molto bene. E non...